Musica Questo non è consigliato Laswell non sta a te Colonnello, Laswell Generale, i miei uomini... Norris, dacci un minuto, ok? Sì, signora Abbiamo un problema Il cremino ha sospeso le comunicazioni diplomatiche La sesta flotta avanza nel Mar Nero E le armi chimiche sono chissà dove Stai lasciando dietro di te troppe tracce, Laswell Rimedia Generale L'intelligence è la nostra arma migliore Abbiamo già provato l'intelligence Dammi qualcosa di meglio John Laswell Dove sei? Al lavoro Ho un problema Russi? Le voci corrono Le armi chimiche sono in mano ai terroristi Non so dove siano Parigi e New York Londra Appena fatto Sargento risponde Qui Gary Massima allerta terroristica Possibili assalizioni multipli Camicazio o forza peggio Abbiamo cecchini in posizione No, negativo Non deve scoppiare il pane Terroristi sono d'accordo Gary, non trasformare Londra in una zona di guerra Chiaro? Sì, capito Chiudo Sembra che siamo da soli Ok Si inizia Inizione Vi vuoti terroristi Dio Mio Casino Attenzione Casino Quello che siamo in modalità difficile Modalità esperto Non sarà per niente facile Mugheremo probabilmente Molte volte La cosa più difficile da fare qui è riconoscere Civili e nemici Aia Ficchermi dai I civili I civili se ne devono andare Ma veloci Ucci Molto meglio E' un'immigrazione I civili Non stiamo muovendo neanche una volta L'ultima parola è sante Chi è lui? Come vi ho detto raga Il problema è riconoscere amici o nemici Perché se per sbaglio Se per sbaglio spara un poliziotto Ho un nemico Finisce la missione Quindi devo stare molto attento Dove? Aiuto Da sopra I stroidi D'accordo 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 c'è poi raggiunto franzoni se penso io andiamo che l'azzo oddio si fa esplodere in aria grande price Finito Vi ricordo ragazzi che comunque Ve lo vedrete anche Utito all'inizio del video Ma vi ricordo che Oh Dio Casino Tutto bene Che casino È successa una pandemia Incredibile Più che pandemia Una morte Non sarebbe comunque dovuto succedere Abbiamo rischiato grosso qui E soltanto per far pinta di non essere in guerra Già La più grande stranzata nel secolo Allora perché abbiamo le mani legate Basterebbe Togliere i guanti e combattere Signore Continua Con queste regole d'immagio Non può venire nulla Capigliano Possono dirci dove Possono dirci quando Ma non come farlo Seguivamo la cellula da tempo Avevate informazioni valide Parecchie signore Ok Gary Vieni con me Urzikstan Urzikstan Chiamami Alex Ti ascolto Alex Informazioni riservate Andate cugini Preparatevi 48 ore fa È stato rubato Un carico di gas russo Opera di Alcatala Sicuramente I russi non fanno distinzione Tra Alcatala e la tua gente E io non faccio nessuna distinzione Tra Alcatala e i russi Sono entrambi Terroristi Non useremo mai quel veneno Allora aiutateci Che cosa? Arrivi in Europa O in America Viviamo così da sempre Comandante Dobbiamo andare Lui chi è? Alex lui è mio fratello E tenenti a dirlo Sei della CIA? Lavora con il capitano Price Allora uccidi russi Ho degli amici che possono aiutarci Ma sarà tua sorella A decidere Ma certo Mia sorella ha il comando E i russi si trovano ancora Quest'occupazione deve finire Su questo siamo d'accordo Vero? Barco controlla la città Questo deve cambiare Non possediamo me Se abbiamo altri metodi Se resti ti aiuteremo Ma se lo fai Combatti E allora combattiamo Benvenuto in Orzikstan, Alex Seguimi Queste gallerie Sono la nostra salvezza Oggi in città arriveranno Dei comandanti russi E no ragazzi Mi dispiace Ma Un solo Una sola missione A episodio Se no vengono troppo lunghi E ci vuole troppo tempo Per caricarli su YouTube E sono troppo pesanti Beh ragazzi Io spero che questo video Vi sia piaciuto Spolliciate Iscrivetevi Per un nuovo video Sempre su Call of Duty La campagna E qui Dal The Cats Gamer Adios